... Protagonista di giornata con il gol che vale 3 punti, Paolino Nucci tornato al gol dopo qualche giornata di troppo, soprattutto per come ci avevi abituato. Sì, è stato un momento un po' difficile per qualche infortunio e per recuperare, diciamo che le prestazioni sono state buone, però è mancato il gol e quindi sono contento di questo gol. Te lo sei conservato per una domenica davvero importante come questa, anche perché davvero la partita si era messa su un piano difficile. Sì, sapevamo che era una buona squadra, poi ben messa in campo e quindi sono stati bravi a lottare fino all'ultimo ed è stato molto difficile vincerla. Tu sei un giocatore di esperienza che ha battuto tantissimi rigori, quanto ti è pesato battere questo rigore? No, pesato no, era più il pensiero di segnarlo ed esultare sotto alla curva. E ci sei riuscito? Sì, per fortuna sì.